Guardiamo con Un sentimento di commossa riconoscenza a quel sublime mistero che potentemente attrae il cuore di Gesù verso la sua creatura. Guardiamo alla grande degnazione con cui assunse le nostre medesime carni per vivere in mezzo a noi la misera vita della terra. Raccogliamo le forze tutte dell'intelletto per considerare degnamente il tenace fervore e la durezza del suo apostolato, per rievocare gli orrori della sua passione e del suo martirio, per adorare il sangue suo regalmente offerto fino all'ultima stilla per la redenzione del genere umano. E poi, con umile fede, con lo stesso ardente amore, onde egli circonfonde e persegue le anime nostre, pieghiamo al suo piede la nostra fronte impura. Carissimi, pace e bene a tutti voi, buona giornata e ancora una volta iniziamo il nostro quotidiano, la nostra esperienza quotidiana alla luce degli insegnamenti di San Pio da Pietrelcina e in questo mese di giugno, come abbiamo detto, abbiamo davanti ai nostri occhi il grande mistero del cuore di Gesù. Vedete, il cuore di Gesù non è una devozione come tutte le altre, non si può essere o non essere devoti al cuore di Gesù, perché se diciamo il cuore di una persona, quando immaginiamo, quando guardiamo al cuore di una persona, pensiamo a tutto il mistero dell'uomo, no? Non possiamo separare l'uomo dal suo cuore, no? Evidente, parliamo di tutto il mistero dell'uomo, allora quando parliamo del cuore di Gesù, parliamo di tutto il mistero dell'incarnazione, parliamo di tutto l'aspetto umano e divino del Signore Gesù e quindi del nostro mistero della salvezza. E allora capite bene che non è possibile essere o non essere devoti al sacro cuore oppure ridurre il sacro cuore di Gesù solamente ad una devozione del passato, no? Assolutamente, anzi attraverso questa immagine così caratteristica, così cara a tutti noi, no? Penso che in ogni casa, almeno le case delle nostre nonne, in tutte le nostre case, c'è sempre l'immagine del sacro cuore e allora dobbiamo entrare nella meditazione, nella contemplazione di questo mistero che, ripeto, riguarda tutta la persona di Gesù, Gesù uomo, Gesù Dio, che non si può dividere, il mistero dell'incarnazione. Padre Pio oggi ci ha detto proprio questo, guardiamo con sentimento di commossa riconoscenza a quel sublime mistero che potentemente attrae il cuore di Gesù verso la sua creatura. Guardiamo alla grande degnazione con cui assunse le nostre medesime carni per vivere in mezzo a noi, la misera vita della terra. E allora il cuore, il cuore di Gesù, Padre Pio ce lo dice, Gesù ha assunto questa nostra natura umana, Gesù ha assunto questa nostra dimensione umana per raccogliere dentro di sé, per raccogliere nel suo cuore tutta la nostra fragilità, la nostra pochezza, il nostro peccato, il nostro fango e la nostra creta, per usare altri termini che Padre Pio usa spesso. Il cuore di Gesù realmente è, aprendosi, mostrandoci questo suo cuore, proprio realmente ci mostra l'umanità, la sua umanità che è scesa sulla terra per raccogliere la nostra fragilità. Gesù si è fatto uomo, meglio dire così, Gesù si è fatto uomo da Dio, si è fatto uomo per essere simili a noi e per raccogliere la nostra fragilità, per raccogliere la nostra pochezza, per diventare simili a noi e quindi perché noi potessimo accostarci più facilmente a Lui. Vedete questo cuore di Gesù che è sempre rappresentato, circondato di spine, sempre circondato, rappresentato, ecco, dalla nostra fragilità, no? Le spine del nostro peccato, eccetera, sta a indicare proprio questo, che il cuore di Gesù, che Gesù si è fatto simili a noi, Gesù si è fatto uguale a noi. Ecco perché Padre Pio dice ai suoi figli spirituali dobbiamo contemplare questo cuore e dobbiamo contemplare la sua umiltà che lo ha fatto abbassare fino alla condizione umana. Allora, fratelli miei, in questo mese contempliamo questo cuore, guardiamo questo cuore con gli occhi dello Spirito, immergiamoci nel suo amore e immedesimiamoci anche nei sentimenti del cuore di Gesù, così come ha fatto Padre Pio. A tutti voi auguro una buona e santa giornata, proprio vivendola nella contemplazione del suo sacratissimo cuore. Pace e bene a tutti voi.